Va bene? Ok, allora, pronti? Facciamo una piccola prova. Facciamo una piccola prova. Siete pronti? Attenzione, quando il diavolo va in alto, tutti quanti, tutti, anche quelli grandi, qua dietro, i b-boy, tutti, voi dovete fare... Ok, pronti? Allora, più gridate forte, più il diavolo va in alto. Ci devono sentire dall'altra piazza. Pronti? 3, 2, 1... Andava quasi bene, quasi bene. Allora, facciamo così. Quando il diavolo va in alto, tutti quanti fanno... Se riesco a riprenderlo, tutti quanti fanno... Fate un po' yeah. Di qua? Di là? Di dietro? Perfetto. Allora, quindi fate... Ah, quando va in alto? Se lo riprendo fate... Tipo... Yeah! Roberto Zilli, che sono io. No, potete fare così. Yeah! Roberto Zilli, bravo! L'hai preso! Sei forte! Sei figo! Ti amo! Ti voglio! Nudo! 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 Se invece cade e va per terra, potete fare buh! Fate un po' buh! Questo viene bene a tutti. Ok, allora, attenzione! Allora, la cosa più importante è questo... Così, bisogna farlo proprio forte. Scusi, lei che si trova dietro? Come si chiama la bimba? Monica. Allora, per far gridare tutti forte questo... Ah, ci vale qualcosa di forte. Quindi, quando io lancio il diavolo su in alto, lei cosa fa? Prende Monica e la lancia in alto. E tutti quanti fanno... Ah! Ok? Lado, eh? Ok. Ok. Attenzione! Quindi, tutti pronti? Tutti concentrati? Ricordarsi che più si grida forte, più il diavolo va in alto? 3, 2, 1! Ah! Allora, proviamo più difficile. Più difficile c'è questo, che è più piccolo, è più leggero, va molto più in alto ed è molto più difficile da riprendere. Allora, attenzione, concentratissimi, allontanati un po' perché può darsi chietà di la testa. Vai, vai, così. Attenzione! 3, 2, 1! Gridare più forte che potete! Grazie! Ok. Attenzione! A questo punto, ancora più difficile, questo è il diavolo più piccolo del mondo e solo Roberto Zilli in tutto il mondo riesce a riprendere. Sì, è più difficile farlo tirare sul filo. Concentrazione! Allora, evitato scorreggiare il prima fila, se no è... Questo è il diavolo più piccolo del mondo, Roberto Zilli. Mi raccomando dopo, bravo, sei forte, figo! Vado! Bravo! Allora, come tutti i giocoglieri, ho diritto a tre possibilità. Se sbaglio tre volte, verrò punito con una punizione corporale. Vado! Secondo tentativo. Roberto Zilli. Tutti concentrati? Smetti di piano. Vado! Tre, due, uno... Terzo tentativo è... Grazie. Come ti chiami? Dario? Flavio! Flavio, mettiti qua. Flavio, mettiti qua. Allora, Flavio, praticamente ti devi mettere in posizione H. Posizione H. Preto. Posizione H. H. Com'è l'H? Così e così, va. Eh, apri le gambe. O piega un poco. Piega un... H più. H, non cacca. Allora, se sbaglio di nuovo, dalla posizione H, fai questa mossa sul mio sedele. Va bene? Punizione corporale. Punizione corporale. Allora. Vado, eh? Concentrati? Oddio. Terro. Sei pronto? Hai tre secondi dopo, eh? Vai. Tre, due, uno... Stamina! Vabbè! Non ci credo niente, non ci credo. Vabbè, detto questo, questo era un po' un escavotage per farvi sorridere un poco prima di cominciare. A questo punto comincio direttamente lo spettacolo perché è stato un fallimento.